Come potenziare l'intelligenza artificiale rispettando i diritti dei cittadini? La Commissione europea ha presentato una proposta legislativa che vieta ad esempio l'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi pubblici. L'intelligenza artificiale consente alle macchine di analizzare e imparare dall'ambiente e prendere decisioni per raggiungere obiettivi specifici. Ciò comporta alcuni rischi ed è per questo che la vicepresidente Feshtager vuole affrontarli per creare fiducia nei cittadini. Il nostro quadro giuridico non considera l'intelligenza artificiale una tecnologia a sé ma guarda a cosa serve e come viene utilizzata. Ci vuole un approccio basato sul rischio fondato, sulla logica. Maggiore è il rischio che un uso specifico di questa tecnologia possa causare alle nostre vite più rigorosa deve essere la regolamentazione. La Commissione intende stabilire quattro categorie di rischio per questa tecnologia. Rischio minimo, vi rientrano ad esempio i filtri anti-spam. Rischio limitato, i cittadini dovrebbero essere consapevoli che interagiscono ad esempio con un chatbot, una macchina che chatta con voi. Alto rischio, ci saranno obblighi rigorosi come la supervisione umana e l'alta qualità di set di dati per evitare discriminazioni. Rischio inaccettabile sono i sistemi vietati, ad esempio il controllo di massa da parte degli stati. Alcune eccezioni all'identificazione biometrica potrebbero essere consentite quando è strettamente necessario, come nella ricerca di un bambino scomparso o per prevenire una minaccia terroristica specifica e imminente. Se parliamo, ad esempio nel caso del riconoscimento facciale, degli usi positivi, possiamo sbloccare un telefono, qualcosa che faccia un centinaio di volte al giorno e che comporta un rischio molto inferiore rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli spazi pubblici per identificare le persone. Quello che dobbiamo fare è leggere il contesto, lo scopo per cui l'intelligenza artificiale è adoperata. Ci vorranno anni prima che la proposta entri in vigore, ma la Commissione si aspetta che sia all'avanguardia a livello globale, come è successo per la protezione dei dati personali.